Martedì 21 dicembre nella chiesa di San Pellegrino a Gualdotadino si è conclusa la terza edizione della Rassegna Musicale Gualdese Musica Giovane, dedicata a giovani e giovanissimi esecutori. Il programma è stato molto ricco e ha previsto il coinvolgimento di tre conservatori, Milano, Cesena e Perugia, due scuole comunali di musica, Bastia Umbra e Cannara, la scuola di musica in canto di Gualdotadino, cinque maestri di musica e i loro allievi. È stata un'edizione con tanti spettacoli durante i quali hanno avuto modo di esibirsi non solo i giovani e i affermati musicisti, ma anche giovanissimi provenienti da diverse parti d'Italia e dell'Umbria.